Banche, farmacie e autogrill. Erano questi gli obiettivi di un 53enne arrestato a Roma dalla polizia. Originario di Caserta, l'uomo è accusato di almeno 15 rapine a mano armata commesse negli ultimi 10 mesi nella capitale. Bottino complessivo circa 50.000 euro. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato San Giovanni si sono concluse ieri con la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa al termine di una scrupolosa attività investigativa della polizia che ha permesso di ricostruire il percorso criminale dell'uomo che in più circostanze ha utilizzato gli stessi abiti, la stessa pistola e il medesimo modus operandi per compiere le rapine.